Buongiorno e buon martedì 10 settembre, siamo proprio curiosi, seguiremo di giorno in giorno gli allenamenti di Giampaolo per capire quali saranno le scelte di Giampaolo sulla formazione. Ormai ci sono tante opzioni e scegliere è veramente difficile. Capire se Rebic giocherà subito nel 4-3-3, se Rebic giocherà nella posizione di Castiglieco con Pianti un po' a sinistra e Susu un po' a destra. Capire se a sinistra giocheranno nel 4-3-3 eventuali Cialanoglu o Paquetà, Buonaventura mi sembra ancora un po' indietro, spero che però torni presto. Se per Krunic non ci sarà posto, se Benasser è ormai titolare, se Leao potrebbe prendere il posto là davanti di Piontek che deve migliorare anche psicofisicamente. Ieri nella partita contro l'Austria è rimasto addirittura in panchina dopo la non brillante prestazione di qualche giorno fa, sempre con la Polonia. Quindi seguiremo per riuscire ad afferrare quali sono le idee di Giampaolo che potrebbe, ma conoscendolo mi sembra un guardare mettere anche Teo Hernández là davanti, scusate, là sulla sinistra pronto a spingersi in avanti, ecco quello che volevo dire. Oppure per Teo Hernández ci sarà ancora tempo perché non è ancora al 100% e quindi continuare Riccardo Rodriguez che torna invece lui caricato perché ha segnato l'ennesimo gol, mi sembra ne abbia già segnati 8 credo in nazionale dopo la pur, la non pur difficile partita contro il Gibraltar contro il Gibraltar e quindi ci sono tante soluzioni per Giampaolo. Adesso imparerà a conoscere nel giro di due o tre giorni dal vivo le caratteristiche per esempio di Rebic. Rebic sembra ormai assodato, dovrebbe giocare subito, sta bene, ha giocato fino all'altro giorno line track francoforte, quindi riteniamo che possa essere certamente un giocatore subito utile e quindi io in questo momento se dovessi azzardare un'ipotesi certamente faccio fatica, faccio fatica anche se alla logica se Rebic come dicevo un attimo fa risponde alle esigenze di Giampaolo vedrei un facile 4-3-3 anche se non è nelle corde dell'allenatore con Chessy Benasser, Cialanoglu o Paquetà, credo più Cialanoglu non per mia scelta ma conoscendo un po' la filosofia e davanti un facile Suso Piontek e Rebic. Credo che sia questa la possibile scelta di Marco Giampaolo, un allenatore pragmatico che vuole capire, vuole essere convinto prima lui delle scelte per poi convincere gli altri. Quindi ripeto seguiremo e vi terremo informati sulle varie mosse di Giampaolo però indubbiamente adesso le scelte sono tante, adesso vedremo Giampaolo su chi opterà per il match contro il Verona perché poi c'è il derby quindi magari a Teo Randessa e a qualche giocatore che deve riconoscere meglio bisognerà dargli dei minuti nelle gambe anche nel corso della partita. Affascinante e vedremo, vedremo se inventerà qualcosa come quel 4-3-3 con Castiglieco e Piontek a sinistra o Suso oppure andrà sul lineare e incomincerà a mettere i giocatori nuovi, quelli che la mercanzia del mercato d'estate ha offerto che la gente vuole vedere ma anche i dirigenti. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like e iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Piontek.